Gentili telespettatori, buona giornata. Vediamo le ultimissime notizie sulle elezioni politiche del 2022. La Meloni, senza accordo su leadership, alleanza inutile. Io di là e voi di qua. Ognuno per conto suo. Salvini, che fa il poliziotto buono, dice che chi ha un voto in più indica il Premier e Berlusconi non commenta. Berlusconi non vuole la Meloni Premier. Preferirebbe chiunque, anche il suo vicino di casa. Le notizie sugli schieramenti. Vediamo i candidati con le ultime notizie di oggi. Sondaggio SVG. Salgono Fratelli d'Italia e PD. Sale Calenda, che si è messo dalla parte di Draghi. Sale il PD, che si fa interprete dell'agenda di Draghi. Sale Fratelli d'Italia, che non ha contribuito a far cadere il governo Draghi perché loro sono sempre stati all'opposizione. E guardate un po', cadono i partiti che sono stati gli autori della caduta del governo Draghi. La Meloni sale al 25%, la Lega sprofonda al 12,4%, il Movimento 5 Stelle sprofonda al 10, Forza Italia scende al 7. Sono stati puniti tutti i partiti che hanno votato per far cadere Draghi. Incontro tra Renzi e Calenda. Quanto appare all'agenzia di stampa AGI, il leader di Italia Viva Renzi e il segretario di azione Carlo Calenda si sono incontrati in serata a Roma. Renzi avrebbe confermato l'intenzione di Italia Viva e di correre da sola le elezioni del 25. settembre. Totti dice nel programma di Calenda cose sensate. Totti è uno di centrodestra deluso. Conoscete altri di centrodestra che sono delusi? Totti, deluso del centrodestra, sta virando verso Calenda. Calenda che si posiziona al centro. Calenda è un deluso del centrosinistra che incontra Totti, un deluso del centrodestra, e si ritrovano con palla al centro e pedalare. Così il governatore, o meglio il presidente della regione Liguria, potrebbe aderire al patto di Calenda. Calenda che si fa portavoce dell'agenda di Draghi. Lo lascia ipotizzare lui stesso, intravedendo a Metropolis di Repubblica. Dice non so se Calenda vuole che qualcuno aderisca al suo patto. A volte sembra voler correre da solo. Francamente molte cose scritte in quel documento sono assai sensate. Quindi Totti elogia Calenda. Bisogna guardare alla legge elettorale. Bisogna capire qual è l'alleanza più ragionevole, meno innaturale, per chi ha una storia come la nostra. Dice il leader d'Italia al centro, aggiungendo il centrodestra e il mio schieramento di elezione, dice Totti. Poi vedremo che capiterà nelle prossime ore. Come dire, vediamo. Lui sicuramente è rimasto assolutamente delusissimo dal comportamento di Berlusconi sotto tutti i punti di vista. Calenda dice io non ho veti tranne Movimento 5 Stelle e Sovranisti, cioè alleiamoci nella sinistra ma senza i 5 Stelle. Quindi da questo vuol dire senza neanche il partito di Di Maio, che comunque non serve all'1,5% il partito di Di Maio. Da qui alle elezioni quel partito può anche diventare 0,01. Quindi il partito di Di Maio è ininfluente. Il Movimento 5 Stelle sta in via di sparizione. E così Carlo Calenda al Tg1 ha ribadito i contorni del patto repubblicano lanciato con più Europa. Addirittura Carlo Calenda nell'ultimo sondaggio SVG è arrivato al 6%, record storico di Calenda. E così lui, Calenda, dice facciamo un patto repubblicano lanciato con più Europa. Può partecipare chi vuole, chi vuole può farne parte. Noi abbiamo rivolto ai cittadini e a tutte le forze politiche che non hanno votato la sfiducia a Draghi, coprendo il paese di ridicolo e dando un'immagine indecorosa, ha aggiunto. Dicendo poi tra l'altro abbiamo assistito a partiti che hanno fatto un mero e squallido gioco elettorale. E invece quel gioco elettorale gli si sta ritorcendo contro. Forza Italia e Lega sono in caduta libera dall'ultimo sondaggio SVG. Alla domanda su come si possa evitare il rischio di veti incrociati, Calenda ha risposto, io credo ragionando sulle cose da fare in modo diretto come ha fatto Draghi. Quindi Calenda si fa interprete dell'agenda di Draghi, che l'agenda di Draghi non è un qualcosa di fisico che qualcuno ha preso e se l'è portata via. L'agenda di Draghi è semplicemente quello che stava facendo e quello che voleva fare. Ne abbiamo parlato l'altro giorno di qual è l'agenda Draghi. Ho fatto un video di otto minuti dicendovi quali sono i punti dell'agenda Draghi. Qualcuno dice non esiste, esiste solo nella mente di quelli di sinistra, in realtà esiste. Ma l'agenda Draghi non è un'agenda fisica, dice eccola qua l'agenda ce l'ho io. No, l'agenda Draghi è semplicemente quello che stava facendo e quello che voleva fare. Né più né meno. Calenda ha anche precisato di non avere veti tranne il Movimento 5 Stelle con cui dice non mi sono mai alleato e i sovranisti che hanno fatto cadere Draghi insieme al Movimento 5 Stelle. Per il resto, dice Calenda, siamo disponibili a discutere con tutti quelli che condividono le cose, perché se no si fanno le coalizioni minestrone solo contro gli altri e non si riesce mai a fare in questo paese e questo dobbiamo cambiarlo. Il nome del Premier, in vista delle prossime elezioni, Calenda dice io penso che noi dobbiamo fare di tutto per cercare di tenere Draghi a Palazzo Chigi. Quindi il centro-sinistra andrà a proporre Draghi come continuazione a se stesso. Finisce il 25 e il 26 continua. Se vince, se dovesse vincere le elezioni, il centro-sinistra più il centro della politica italiana. Il centro quanto vale? Intorno a un 10%. Non è propriamente da buttare via, come tanti giornali che chiamano il centrino, più partiti che elettori. Non è così. Il centro, ci sono tanti partiti ma c'è anche un 10% dell'elettorato. Il 10% dell'elettorato sono 4,6 milioni di elettori. Non proprio bruscolini. Ecco, dice io vengo dalle aziende, come se la Ferrari a un certo punto avesse detto a Schumacher, senti sposati perché devo far salire la Meloni a guidare la macchina. È una cosa folle. Spostati, non sposati, spostati perché devo far salire la Meloni a guidare la macchina. È una cosa folle. Draghi è la persona più capace in questo momento di proteggere l'Italia. Cerchiamo di tenercelo. Se lui non vuole, amen. A quel punto mi candiderò io con Emma Bonino e tutti e due assieme andremo a cercare di fare quello che stava facendo Draghi. Renzi dice spero insieme a Calenda ma prima questioni di merito. Quindi Renzi dice corro da solo ma sta sperando di essere corteggiato dal PD per poter rientrare nel PD, fondersi col PD e avere anche un posto sicuro nel prossimo Parlamento. Quindi per adesso fa quello che dice io vado da solo ma è solo perché vuole essere al centro dell'attenzione. Il PD dice non ci sono dubbi su Draghi ma il tema Premier non è in agenda per adesso, non è in agenda ma l'idea è quella o Letta o Draghi come Premier e quanto sottolineano fonti del Nazareno. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata.